settimo incontro nel cammino di qualificazione mondiali del 2022 european qualifiers dopo aver superato con una goleada la lituania segna di lorenzo 5 a 0 l'italia di mancini affronta la difficile formazione elvetica una sfida che vale la testa del girone italia svizzera venerdì alle 20 e 30 in esclusiva rai 1